vai al aspetta devo montare la camera ciao a tutti ragazzi io sono Alessia e lui è Ignazio si è vero? insieme siamo i mitici due bene, allora cosa apriamo? i pacchi di card di Harry Potter bene ok iniziamo ad aprire il primo pacchetto vai poi farvi vedere la minima di video camera aspetta dai un altro Harry oh si si Harry Potter si è scritto ok aspetta che accende la luce chi è trovato accidente no? no aspetta questo è Harry bella bella bene Harry Potter ok vai farvi vedere il castello di Hogwarts è la metà del tuo oh perfetto grazie poi l'ho trovato Malfoy bellissimo troppo bello e poi l'ho trovato questo come si chiama? oh l'abbiamo trovato non mi ricordo come si chiama e come l'ho detto? l'ho scritto il nome? l'ho scritto Charter personaggio è la Charter si chiede no e anche di Charter significa personaggio in inglese mannacciata e mannaccia oh Luna Lovegood perfetto speriamo che non ce l'hai Ron in scopa di Quidditch ok e quante abbiamo? ah le doppione ce le abbiamo già perché? Ron e Levenberg si ce le abbiamo già eh doppia io mi dico mannaccia a te uffa ehi anche l'altro doppione vabbè abbiamo trovato belle figurine ora apri l'altro pacchetto Alessia sono curiosa io voglio trovare sempre proprio ma sarà il video più bello di tutta la mia vita ok Alessia apri il pacchetto ok perfetto oh Ron Ron Weasley non devi cominciare dalla fine tieni perfetto Ron Weasley guardate perfetto che altro hai? ecco che abbiamo da mostrarci oh e cos'è? no vabbè con lo skull ah questo non ce l'abbiamo il finatore ah finalmente questo ci mancava oh Ale Ale aspetta Ale sta risucchiando la camera ah dai sì ragazzi avete sentito una donna a gridare quella è la madre di Harry Potter perché i destinatori ragazzi ora vi dico una curiosità i destinatori fanno ricordare i più brutti ricordi ok ma basta va bene basta perfetto questo è un altro piton piton wow Jimmy Jimmy sì cosa ci mancava bella sì grazie ragazzi grazie è meglio fidarmi Santino poi abbiamo Neville questo è il doppione e questo è il doppione uffa Alessia visto che abbiamo trovato il porcino d'oro che è il doppione dobbiamo chiapare il porcino d'oro vieni Alessia chiapalo prendilo prendilo vieni Alessia vai su vieni Alessia aiutami non lo prenderai mai non lo prenderai mai non lo prenderai mai ciao 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 c'è non lo prenderai mai non lo prenderai mai uoén mia dove vai oh no non andai indietro presa che sta aperto infatti non so andate cattiva sto prima pochino e ci siamo nel prossimo video ciao ma non è vero io devo ancora aprire quelli dei calciatori io sto ma non farò parlare così Alessia e Jimmy tu mi vuoi aiutare si ma prima voglio salutare il mio fidanzativo eh ragazzi non so se avete visto Harry Potter ma sapete benissimo che Jimmy e Harry beh meno che si sono ritrovati ok ora Jimmy e Harry mi aiuteranno sicuramente dai su ragazzi e va bene allora Jimmy tiri questo pacchetto un attimo fa schifo i calciatori e small lo devi tenere un attimo fa schifo i calciatori lo so dopo le attacchiamo prima allora liberale tutte e mettile sul letto vai Ale ti aiuto dai ah questo sta per strappare sto sto mamma mia perfetto allora ok queste sono delle bustine calciatori aspetta mi vuole servire anche Jimmy e vabbè ma devo aprire io scusa Emi cioè allora Jimmy non è fidanzata di Harry Potter mi sa che ti deve fidanzare io cioè non si stacca più ma non può essere fidanzata di una termina e non lo so non si stacca più sì ma ora basta ti prego ora fammi godere il calci ti prego più là va bene e beh ragazzi lei è tifosa del Milan qui vuole vedere se trova qualche è vero il calcio fa schifo ah sì 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 Jimmy hai ragione il calcio fa schifo Jimmy oh aspetta hm proprio carina va bene allora ma che cosa ecco aspetta eh arriva la disturbatrice donna stiamo registrando donna stiamo registrando eh niente era un destinatore un destinatore un disturbatore è un destinatore eh sì ma dove è questa la cosa ma non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è Harry Potter come è che sta il destinatore eccolo ecco tieni è il desteratore e tienile prendile mettile sul letto poi abbiamo apri le pacchietti etti ma non c'è e basta ma deve essere un video bello del mondo cioè proprio arriva Eccoli ragazzi Ci sono anch'io eh Bene Dimmi E basta Gioca tanto Ma fai chiede le picoline Bene Allora Apriamo un pacchetto Le bustine sono fighissime Apriamo Allora tu non vuoi muovere la telecamera E puntare Allora non so se vedono Oh cominciamo bene Tammy Abram Poi ho Modena e Palermo Ivan Radonavici Saranitana Poi abbiamo Marco Silvestri Ok E poi vale un punto Oh due codici Questi li metto da parte Bene Quindi un punto Più uno Quindi vale due punti Per il calcio regali Quindi calcio regali di quest'anno Poi vi spiegherò magari Quando per il tempo Perfetto Ok Apriamo l'ultimo pacchetto E cominciamo ad attaccare Quella di Harry Potter E poi Cominciamo a Juan Musso dell'Atalanta Poi abbiamo Marco Arnautovic della Bologna Poi abbiamo Poi abbiamo Mammonia Gas Della Spezia Poi abbiamo anche Cagliari Ascoli E poi Un punto Quindi tre punti Perché poi Più due Che ho trovato in un pacchetto E va Ok E quindi Ora Dobbiamo attaccare Quella di Harry Potter Sì Però aspettate Che metto un attimo In ordine Quelle mie Troppo bella stagione Vabbè Non ci bisogna Di mettere proprio in ordine È troppo bella stagione Sì Lo sappiamo Allora Anzi Toccatele di che Valeria Le sta figurino Non possono toccare Alessia Quindi E meno Che lo sappia Bene Ecco qua La scena Che ha dietro a Jimmy La scena Che è successo No Non è successo niente E il video Si può conclusare qui E si va E poi lo attacchiamo noi E quindi Ciao